ciao ti do il benvenuto a consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore volta per quanto riguarda il bitcoin ed ethereum e allora bitcoin dopo avere completamente saltato totale la fase ribassista ok prezzo che però è rimasto mannaggia aspettate che metto le medie ok è saltato completamente la fase di ribasso come vi dicevo poi ha ripreso a questo punto si è andato anche a riallineare alla componente cicca allora questo mi sa che è un 10 giorni esatto perché c'è un 10 giorni non lo so siamo sopra le medie quindi ci si possono cercare solo indicazioni sui minimi ciclici non sui ribassi quindi non sui picchi a meno che non ci sia un forte allontanamento quindi che vada fuori statistica anche in questo caso invece scusatemi è evidente che invece ho riattivato sì che bitcoin sia in in questo momento in una sorta di canalone gigante perché alla fine si tratta di un canalone gigante quello che stiamo vedendo che sta accompagnando il prezzo al rialzo più che un canale sembrerebbe stia diventando un cuneo quindi che cosa dobbiamo aspettarci beh rimaniamo sopra le medie abbiamo il prossimo picco previsto per il 12 di novembre che posto qua ok e quindi la direzione resta esclusivamente rialzista è inutile nascondersi fumo totale tutto sta salendo tutto guardavo oggi è allucinante oggi abbiamo indici a palla gold a palla e dollaro a palla quindi tutte quelle che una volta erano le correlazioni vabbè ormai dai da anni che non esistono più le correlazioni sono arrivate adesso a livelli che in 16 anni non ho mai visto di scorrelazione da parte dei mercati c'è di quelle che una volta erano quasi considerate sacre comunque poco importa e in questo caso il petrolio si devono cercare ancora indicazioni rialziste per andare a vedere i livelli il petrolio il bitcoin per andare a vedere i livelli come sempre ti invito a mettere un like è una risposta diciamo di cortesia alla formazione che faccio gratis ea tutte le analisi che faccio gratis che se vi abituate ad ascoltare bene e non partite con il pregiudizio che è una cazzata bla 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 vi accorgerete che è una metodologia veramente molto molto efficace qualora decidiate di approfondire approfondire un po di più ovviamente vi invito a visitare il sito iscrivetevi al canale telegram gratuito non ve ne fregarà nulla perché se guardate le crypto probabilmente non fate il forex però il 4 quindi in una di prossimo parte il mese di prova gratuita dei segnali forex basta unirsi al canale tegan perché li andrò a pubblicare sul canale pubblico una volta finiti i 30 giorni chiaramente non ci saranno più segnali su quel canale lì e deciderò poi se aprire un servizio premium oppure no lo deciderò poi alla fine chiaramente dall'anno nuovo sostanzialmente segnali in 3d sul future ti interesseranno ancora meno immagino visto che sei qua a guardare il bitcoin quanto avrà i dettagli i prezzi popolari e ho fatto un mese del cavolo e novembre perché ieri ho commesso veramente un errore tre errori o allongato tre volte il nasdaq ignorando palesemente un segnale short e prima era giusto rialzo il secondo dovevo metterlo short una cosa che mi ha fatto arrabbiare che l'ho anche comunicato pronti a entrare short io invece sono entrato due volte long di tanto in tanto mi capitano giornate dove guardandomi intorno vedo che tutto sale tutti gli indici salivano tranne il nasdaq e quindi ho detto invertirà e ogni livello mio buono l'ho allongato non avessi guardato il resto come da metodo avessi guardato solo il metodo mi sarei girato short serenamente con un segnale pulito e avremmo fatto un bel profitto vabbè quando si dice avere mille e guardare mille cose per prendere una decisione è sempre sbagliato perché alla fine della fiera cerchiamo di avvalorare quello che è il nostro pensiero con i mille strumenti che abbiamo intorno un solo strumento analisi che finisce lì proprio non c'è altro che ci dica il mercato era anche short ieri ti invito anche a valutare l'utilizzo dell'indicatore volta avrai accesso anche a canale telegram di supporto dove mettiamo anche i propri segnali oggi ad esempio ho messo il segnale short su error chf perché le valutie stanno già facendo da un po' che è andato a target e avrai accesso appunto sia al canale telegram che ai video formativi ma torniamo alla nostra analisi tra l'altro troverai tutti i link comunque sia qua ok in alto a destra compreranno ovviamente le schede che sotto in descrizione quindi mi raccomando anzi sotto metti subito un bel like iscriviti anche al canale e mi raccomando ogni volta che metto un'analisi torna a vederla mi raccomando quindi abbiamo detto che ciclicamente siamo in una componente rialzista fino al 10 di dicembre allo stato attuale andiamo a vedere adesso quelli che potrebbero essere dei livelli interessanti da poter lavorare prima vado a sistemare i vari minimi questo era il minimo quindi lo andiamo a posizionare dove in realtà è corretto adesso era previsto un po più avanti il mercato è andato ad aggiornarlo perché allo spostato di solito li lascio dove sono perché era questione di tre giorni quindi va benissimo metterlo qua andiamo a sistemare anche il prossimo minimo del ciclo di 20 giorni il 40 giorni anche lui ancora spazio allineato con il ciclo di 20 giorni facciamo un'isolazione anche qua totale quindi togliamo tutto un attimo guardiamo ciclo per ciclo quindi andiamo a vedere 54 mesi manco si vede tanto è grande la sinusoide vedete comunque è ribassista partiamo da un 18 che dovrebbe essere visibile anche su questo time frame 18 mesi sta per passare ribassista quindi al momento è ancora in una componente di spinta rialzista però lo vediamo che siamo quasi arrivati a capolinea un 40 settimane quindi sto isolando ciclo per ciclo a lui ancora un po di spazio abbiamo al momento una proiezione che ci dice che il prossimo picco sarà intorno al 26 di dicembre e la media di un ciclo a 40 settimane è di 268 candere contro 280 che dovrebbe essere la durata standard vediamo un po l'ultimo ciclo quanto è durato è durato 266 proiezione di 270 quindi siamo comunque tutto sommato allineati e abbiamo avuto solo un ciclo nel recente passato molto più grande che quello che vediamo qua anche se forse forse poteva andarlo anche a pizzicare qui 149 non ci stavamo dentro no ok andiamo a vedere anche il ciclo da 20 settimane 20 settimane anche lui in una fase di rialzo quindi vedete che abbiamo siamo già tre cicli che hanno una spinta rialzista l'80 giorni e sul minimo di rittura quindi parte la spinta rialzista e il 40 giorni e il 20 giorni 40 giorni è quasi arrivato a capolinea e invece il 20 giorni anche lui è in una fase di rialzo andando a sommare tutti questi cicli otteniamo ovviamente l'onda composta che siete abituati a vedere nelle mie analisi quindi questa spinta rialzista direi che è importante e valutando anche tutti i cicli che abbiamo analizzato in maniera singola uno con l'altro andiamo a vedere un attimo su trading you intanto ti ricordi di mettermi un like mentre vado a prendere il bitcoin siamo su un bel livello di resistenza livello di resistenza che è data eccolo qua che questo bel bloccone di lateralità quindi volume e maggio 2022 in realtà c'è tutta quest'area infatti vediamo che anche il profile che però devo vedere dove cavolo l'ho tracciato prima di dire scemente si direi che ci sta anche il profile ci dice che qui c'è area in realtà a questo punto una rottura potrebbe darci guardando solo un profile spazio fino più o meno a livello di 42.454 e successivo target 47.533 quindi spazio per entrare long ne abbiamo da un punto di vista ciclico siamo un po lontano ci vedete che è stata rotta l'altra realtà quindi parli long siamo un po lontani questo punto potrebbe valere la pena o si fa banzai però l'ideale è aspettare chiaramente 39.659 per fare ciò converrebbe sicuramente di più magari anche sul time frame più breve però una cosa del genere o comunque che si mette anche qua un po in laterale per ripartire anziché entrare direttamente su questo massimo che sarebbe già non dico tirato però il mercato avrebbe già fatto un po di movimento su una resistenza mi piace poco quindi o laterale oppure rottura della resistenza che diventa supporto e viene ri breccata e poi si rientra successivamente allora diventa una bella opportunità e andiamo a tracciare anche i livelli così ce li abbiamo per la prossima volta uso i livelli del profile in questo caso quindi tutta quest'area consideriamo l'ultimo pezzo e poi ovviamente quello vabbè siamo proprio sui massimi ok perfetto quindi per quanto riguarda bitcoin al momento siamo sul minimo ciclo quindi di segnare le aziste da poter valutare non vedere i tiri anche a differenza di quella schifo di bitcoin è sempre comportato molto bene dal punto di vista ciclico non creando problemi anche le fasi di ribasso le ha sempre fatte è andato un po oltre perché il picco originario era previsto almeno che non siano 40 giorni ok era previsto il picco originario per il 10 di novembre in realtà che sono usati per il 5 di novembre l'ha fatto cinque giorni dopo che quattro giorni dopo che è perfetto fase di ribasso l'ha fatta si è messo in laterale ripartito qua vabbè non ha poco senso un ciclo da dieci giorni ok e vediamo allora se dovesse rompera rialzo si salta la fase ciccola iniziamo a avere nuovamente delle condizioni che poco ci piacciono questo qui non ha senso vediamo se riusciamo a appizzicarlo andiamo a posizionarmi lo fa a cancellare e che versione è che una volta non mi fa cancellare 1.5 allora abbiamo il successivo minimo che è previsto per il 9 di dicembre quindi io al momento non posso dire entriamo long cioè entriamo short perché perché il mercato sembrerebbe che stia per rompere un rialzo vado a metterle che anche qua non ci sono mannaggia le mie tre medie questa è una media mobile di lungo ok mercato sta generando addirittura un possibile ingresso rialzista quindi l'obbio per come siamo posizionati io con il mio metodo un long lo potrei valutare solo intorno al 9 di dicembre a meno che non venga poi aggiornato qualche ciclo quindi ci sia un po di cambiamento al momento non entrerai mai long perché ciccamente siamo in una fase di ribasso a differenza di qua dove il long ci sta ma il mercato non ce la sta facendo qua chiaramente non possiamo fare nulla a limite si perdono delle occasioni però anche per quanto riguarda un ribasso ovviamente non c'è modo allo stato attuale di poter entrare short dovremmo attendere che il mercato si posizioni a sotto dei medi immobili cicli che quindi passando eventualmente per un time frame inferiore quindi che si venga a formare una cosa del genere e comunque questo punto che va da romper questa grossa lateralità se guardiamo è tutto questo blocco blocco che va dal 1904 a 2136 per blocco intendo tanto volume lì ok non sto utilizzando termini di altre metodologie e a questo punto speriamo che ci sia un avvicinamento delle varie medie perché si possa anche solo prendere a questo punto una rottura della media rossa per poter cercare il primo livello di supporto che sarà l'area media di 1879 per quanto riguarda questi giorni comunque c'è da rimanere fermi perché al momento attuale è ben lontano da divenire un'opportunità del genere con questo direi che ci possiamo salutare quindi bitcoin pronti per un bel segnale long ethereum no perché sarebbe fuori statistica e ci aggiorniamo con le prossime analisi ciao e buona serata